Ma buon pomeriggio Mauri, questa live assolutamente a sorpresa per te, tu non eri pronto a fare nulla, tu hai detto la tua videocana. Appena ho visto la foto ho immaginato che sarebbe arrivata la richiesta. Sì sì, eccoci qua, guardate che professionalità, guardate anche con che qualità ve la facciamo vedere, e ditemi se non vi dovete abbonare a questo canale per la professionalità che vi porto. Iniziamo ovviamente Mauri con l'album, ah poi aspetta, ah una cosa dobbiamo dire Mauri, forse tu questo non lo sai. E devi sapere che c'è una remota possibilità di trovare una promo card che ti fa passare una giornata con la SAV. Oh Cristo, io ho già detto se la trovo la vendo a 500 euro ai bambini, voglio passare la giornata con la SAV. Se trovi una delle 100 pop card con la scritta hai vinto potrai ricevere un esclusivo zainetto autografato la SAV, quindi anche quello. Oh anche quelle le qualità è, è un flex molto grande quello. Esatto e poi puoi anche trovare la promo card che ti fa passare la giornata con la SAV. Ancora della giornata. Fino al 30 giugno. No. 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 Ma magari per noi fa un'eccezione. Dici? Eh ragazzi, a quanto pare è soltanto, era soltanto fino a giugno. Allora, poi sono tutte numerate, quindi è abbastanza facile anche da riconoscere. Queste qui sono le bustine dell'album, vero? Sono venute con l'album. Sì, le due con l'album. Ok. Qua abbiamo, ah lui lo conosco, si chiama Electric Peo, l'ho conosciuto ad un, dov'era, ad un Lucca, bianchiacrato, molto simpatico, molto bravo a disegnare. Qua abbiamo la SAV con un cane, la SAV con Sergio. Ragazzi vedo Gianni, mi sembra che, ecco questo qua. Il secondo da destra è Gianni. A me sembra più lui Gianni onestamente. Il primo? Il primo da destra. Sì, il primo a destra. Sergio e Gianni in chat ragazzi. Questo è un plug. Forse no. Vabbè, è un gatto. Un gatto. È un gatto. Ecco a voi, seconda busta dell'album. Ma no, però sono veramente appiccicati, bisogna proprio strapparle, altrimenti non escono. Oh, qua quando ha fatto, non mi ricordo come si chiama qui il programma, Maui per i bambini malati. Sì, ho capito che lei è. Però sì, ecco, mi viene in mente il nome, però. Make a wish. Ecco, esatto. Grazie mille Maui. Qua invece hai in mano un bastone. La qua c'è un paracadute. Stava facendo i provini per la skin di Warzone. E qua c'è un sacco di scritte dietro. Vedete? Questa è foil. È vero. Questa è rara. Numero 32. Figurina scintillante. Oh, questa vale. La mando a PSA, Maui. Vedo se me la sigillano. Vogliamo iniziare ad attaccarle adesso, Maui. Abbiamo la 8. Scusami. Dove l'8? Non siamo male. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Dov'è? Ah, qua. Ah, ma è questo affare. Ah, è piccolissimo. Ah, minchia. Non avevo mica notato. Ma è difficile. Eh, in effetti qua. Testo di cui non lo possiamo mica. Eh, no, Maui. Antibocelli qua. Attacchiamo il gatto che è a testa in giù. Eh, vabbè. Maui, lo so che tu sei sempre malizioso. Ah, sì. Qua è quando si lancia per il Battle Royale. Come si fa? Non si stacca. Non so come attaccarla. Dio santo. Il test di cui l'abbiamo già fallito, ma. È già fallito dalla grande, proprio. Non riesco. Prossima volta, vediamo cos'altro. Grazie delle 104, ragazzi. Vorrei vedere voi. Ho preso con questi. Hashtag, la Sabri mi ama. Ah, qua. In alto, in alto sinistro. La Sabri mi anima. Ah, è vero, Maui. Questa qua è quella che guardi il video se metti il QR code. Se lo inquadri. C'è il QR code? Madonna. Vuoi farlo dalla videochiamata, Maui? Vediamo se posso. Così. Lì, 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 va bene. Oh, me l'ha preso. Apri il link di YouTube. Mario, ma ti immagini se la figurina 104 di Quadra è uno di quelli lì del... No. No, dico, perché insomma... Spero di no. Io spero che non ci sia questa coincidenza. Ah, è speciale, è speciale. Speriamo di trovarla, allora. Abbiamo il booster box, ragazzi. Vediamo se sono per i testi da 104. Ecco, ma addirittura così, Maui, te lo metto, guarda. C'è un venditore adesso, posto. Sono un venditore, ragazzi. 50 euro a bustina e ci sto rimettendo. Qua è con un bambino. Qua c'è un cono gelato in mano. Qua fa ginnastica. E qua invece non fa ginnastica. Oh, allora, qua c'è un altro cane. Qua è di nuovo con Gianni e Sergio. Di nuovo in Africa. Questo è un disegno, ottimo lavoro, continua così. Penso che l'abbia disegnato lei. Qui ha un altro cane. Grazie, ultra 15-06. Ma questo vale un botto! Questa vale davvero tanto. C'è Favij qua. Questa vale un botto, ca. Minimo. Minimo, raga, minimo. C'è Favij, 40 buste così, ma poi ha voglia di attaccarle tutte. Allora, qua c'è un altro gatto. Poi. La sape che un bambino. La sape che urle. No, è schifata. Non lo so. È terrorizzata. Poi, prossimo. Non so se è lei da piccola questa. Immagino sia... Sarà lei? Non lo so. È forse la sezione ricordi. Sai che c'è la prima. È la sezione ricordi, però... Può essere. Vabbè, ma ci sarà scritto. Poi ci sarà un vestito. Rosa. Qua c'è scritto hashtag love, hashtag kebab. Ah no, akab. Ah, akab c'è scritto, scusate. Hashtag kebab. Hashtag kebab. Un'altra foil, Mauri. Eccola qua. Questa è bella, questa è bella. Reverse solo. Allora, qua sta guidando un cavallo, ma col volante. Eh, non so. Qua invece c'è la cuffia da gaming, che non sono trust. Questa, Mauri, è rarissima. Questa vale tantissimo. Secondo me è rarissima. Qua, cos'è, il banco salumi? È sempre... Ah no, è sempre gelataio. Ok, cioè... Ah, è gelati. Qua è in spiaggia. Probabilmente non in campagna, altrimenti De Luca passa col lanciafiamme. E questa è la nonna, cazzo. Anche questa vale tantissimo. Questa vale tantissimo. Non è la 104. Allora, qua... Qua sta facendo... No, l'altra che faceva la ginnastica era sulle mani, tipo in verticale. Ah, ok, ok. Qua fa ancora ginnastica, un sacco di ginnastica. Dovrei prendere esempio. Qua sta per... Non so come si chiama questo gioco, tra quello delle gioste. E quello dove devi sbattere come stanno fortissimo. Esatto. Esatto. E qua, altra ginnastica. Però non è lei. Ah, questa è una... Ah, no, Mauri, incredibile. È doppia. È vero. Nella stessa busta l'ho trovate. Wow. Devastante. Ok, andiamo avanti. Non so a quante buste sono, però... Non siamo ancora a metà, Mauri, ti dico solo questo. No, non siamo a metà, esatto. I gatti che mangiano dei vermi o degli spaghetti. Oddio. Qua questa è... In Africa. Esatto. Villaggio di Sergio e Gianni. Qua c'ha il tatuaggio del cane. E qua dici stare zitto. Quindi mi sa che anche questa è molto importante. Welcome to Springfield. Ah, qua con Favij. E qua c'ha una scimmia in testa. Che sia da 104? No. Questa è in Africa. 59. No, non hai fatto. Eh. Allora, qua è davanti a dei bambini, però non so cosa sia. Ma sembra tipo una... Un rech. Ah, lo zecchino d'oro. Ah, ecco perché sembrava. C'è scritto sulla maglia. Magari non si vede dalla videocamera. Qua ecco un'altra bambina che le dà un bacino. Sì. Poi... E questo? Questo è un puzzle sicuramente. Questo mi sa che è grande il set. Questo è grande, sembra un quarto, sì. Ok. Sì. È un altro pezzo di quello grande. Sì, sì. Abbiamo già due pezzi su quattro. E qua c'è lei. Ecco qua un'altra caratterà. Non è la 104. 128. Per il parosa. E si va avanti. Questa qua pure è nuova. E lei... Cos'è? La moraglia cinese questa? È vero, sì. Sì, sì, sì. La moraglia cinese questa. Qua c'è minchia. Eh... Gulpolbertor. Gulpolbertor. Ok. Avanti. Però è faticoso spacchettare tutta sta roba, eh. Ebbè, insomma, in 42 buste, cioè, sono 210 carte. Forse la 104 l'abbiamo anche già trovata. All'inizio c'era un po' di foil, ma ci abbiamo fatto... Questa no, questa è nuova. Se è veramente speciale mi sa che ne abbiamo beccato. Questo non me lo ricordo. E questo è nuovo, ragazzi. Oh, questa è nuova. Questa è nuova, ragazzi. Sì, questa è nuova. Molto dark. Questa pure è nuova. La Sabina con il suo cane. Non so se l'abbiamo già visto da troppi cani, troppi gatti. Non mi sembra. Questa pure è nuova. Questa è nuova. Attenzione, poi scartella qua. Ah, questo qua lo facevo anch'io quando facevo calistenico. Tu stai guardando il culo, onestamente. Un'altra foil. Molto bella questa, ma non è la 104. Oh, lei in spiaggia. Qua mi pare in Africa forse qua. Uganda. Sembra di sì. Qua è con il suo amico. Qua ecco. Qua con probabilmente un'amica di Gianni. Qua è lei con delle ali dietro. Con delle ali rosa. E questa è nuova. Maui, sarà questa? No, no. La 104 è veramente speciale. Questo, ragazzi, è un pezzo antiquariato. Più vecchia del mio blister di servitore del farone del 2002, questa. Qua c'è un fucile in mano. La gang. Ah, no, un microfono, un microfono, un microfono. Ah, no, no, ok, no. Questo, boh, non mi ricorda. Sì, l'avevo già trovato questo. Ah, sì, l'avevo già trovato. Ok. Questa è nuova. La prima. A te... Mario, non è questa la 104. Ok, è l'84. Eh, stavo per dire sì, ero tentato, ero tentato. Maui, malizioso Maui. Qua è lei che gioca con il joystick della Play. Mi sa che quella, sai, è la posa da game. Controlla, vuoi vedere il numero 14. Mamma mia, Maui. Quante ne sa, Maui. Ma ragazzi, è più immerso di tutti i miei messi assieme in questo spacchettamento. Questa non la so se ce l'abbiamo, eh. Gianni. Gianni? Questa è Gianni punto. Poi, questa è un'altra posa da game. Non so come... Ah, così va di vista. Ma... No, questa non è la 104. 115, Maui. Eh no. Andavamo vicini. E qua un'altra foto con Gianni e Sergio. Gianna e Sergia. Tutti proprio... Gianni e Sergio. Famiglia al completo. Abbiamo quasi finito, eh. Vi giuro, ragazzi, ci siamo quasi. Quello di Mostra in Colo, non mi ricordo come si chiama quello verde. Eh, Mike Wotowski. Ah, ok. Bello sto gatto. Questo è molto bello. Molto, molto bello. Attenzione con un cane e G. No, niente. Questa è lei. Forse un'altra posa da gamer. Qua, questa abbiamo già... Maui, questa è rarissima tensione. Potrebbe essere. Maui! L'abbiamo trovata. E si va avanti, ragazzi. Il Golden Button. Eccolo lì. È quello, sì. Il Golden Button. Sì, sì, sì. Io non ce l'ho qua. Qui ho solo il Silver Button, ragazzi. Maui, le ultime. Quante ce ne sono? Attenzione, ragazzi. Attenzione. Ultime tre buste. Questa è nuova. Nuova. Questo qua è quello che disegna, è peo. Questa abbiamo già trovato un paio di volte. No, è tripla questa. Questa è nuova, pure questa. Nuova. Un bambino, una rosa in mano, molto romantica, molto carina. Ginnastica, signore. Nuova. Ginnastica nuova, la numero 43. 43. Qua abbiamo... Abbiamo già vista questa. Vista, rivista. Pure questa. Anche questa. Pure questa, pure questa. Sì. E questa no, attenzione. Questa è nuova? È nuova. Questa mi pare che sia nuova, 147. Allora, questa mi pare l'abbiamo già vista. È duplicata. Questa pure del gatto. Questa, assolutamente... No, no, questa l'abbiamo già vista. No. Sì, sì, tranquillo, tranquillo. Questa pure. Questa non lo so. Abbiamo finito l'unboxing. 42 bustine, 210 carte. In totale 165, Mario. Ci metteremo tutta la live ad attaccarle, vero? Vuoi davvero attaccarle tutte? Lo faremo in separata sede, va bene. Lo special 104, signori. Eccolo qui. Eh, sì. Ce l'abbiamo, signori. La 104 è qua. Me l'ha fatto fare, Mauri. Dove è la carta mega rara col cuore di Sascha a Fensi? Bellissimo album. Vorrei anche io avere un bel album, Mauri. Era molto bello, comunque, seriamente. Oh, un giorno, quando arriverò, il merch, facciamo l'album. Maurizio è proibito. Faccia, piedi, ciabatte. Va fatto, ragazzi. Va fatto. Eccolo. 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 Eccolo.